Centinaia di persone arrestate o indagate, beni per centinaia di milioni sequestrati o confiscati, un grovio di intercettazioni telefoniche e ambientali tese come una rete sulle province di Mezza Sicilia dai più abili investigatori di tutti i corpi di polizia. Un impegno enorme, via via, cresciuto dal giugno del 93, quando Matteo Messina Denaro ha cominciato a scrivere la sua storia di imprendibile latitante, irraggiungibile ma garante di un articolato sistema di potere. Una ricerca accompagnata da pesanti condanne, l'ultima ergastro lo scorso ottobre si riferisce alle stragi Falcone e Borsellino, in cui Messina Denaro ha anche rinunciato a farsi assistere da un avvocato. Negli atti di più indagini spuntano i riferimenti circa la sua presunta presenza nel Trapanese, indicazioni che si confondono con voci di incerto fondamento, secondo cui il boss si sarebbe rifugiato via via in Tunisia, Inghilterra, Germania o Venezuela. Così la latitanza e i delitti mafiosi di Messina Denaro rischiano di trasformarsi in un banale romanzo criminale, con pagine in cui si narra di frequentazioni a Castelvetrano, il volto modificato dalla chirurgia plastica, e dei segreti da lui custoditi e mai rivelati dal corleonese Salvatore Rina, sulle stragi che le sentenze hanno sinora attribuito a Cosa Nostra. Una storia, quella della latitanza di Messina Denaro, che ha fatto registrare in passato il trasferimento ad altro incarico di investigatori che con più esperienza gli davano la caccia, e le dichiarazioni di magistrati che ragionando sulle tradite aspettative di una sua cattura si sono detti convinti delle coperture eccellenti godute dal boss.